Oggi 25 novembre 1933, anno 12, io, tenore Lauri Volpi, ho fatto la prima incisione per la discoteca di Stato, nei locali della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Bohemia. Oggi 25 novembre 1933, anno 12, io, tenore Lauri Volpi, ho fatto la prima incisione per la discoteca di Stato, la prima incisione per la discoteca di Stato, nei locali della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, la prima incisione per la discoteca di Stato, nei locali della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, la prima incisione per la discoteca di Stato, nei locali della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, su apparecchi Fono Roma, cantando un brano della Pilarmonica Romana, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.